Salve a tutti ragazzi qui è il vostro Siricononto2 e ci ritroiamo oggi in un nuovo video su World 2.0 Nel video di oggi ragazzi vi porto una partita con quelli che secondo me sono il miglior sniper e il miglior sniper support per Ashika Island Anche se lo sniper support possiamo utilizzarlo anche su Almazra Ragazzi stiamo parlando del MCPR300 e della Capino Il setaggio del cecchinone parte con la volata Ftac Ripper con calibrazione 0.68 in velocità modalità mirino e 0.42 velocità proiettili Andiamo a mettere la canna 22 OMX con velocità camminata in puntamento in 0-0.24 e velocità modalità mirino in 0-0.27 Andiamo a mettere le munizioni esplosive l'unico modo per one bombare i nemici e le mettiamo in 4,35 velocità proiettili Andiamo a mettere poi il laser FSS OLED con calibrazione 0-15 in velocità da scattafuoco e 0-23 in modalità modalità mirino Andiamo a mettere poi l'ottica Ftac Delta 4 perché le ottiche dei cecchini ragazzi hanno un ingrandimento troppo grande Quindi a volte sono troppo lente e disturba un po' Con quest'ottica come vedrete qui nel poligolo di tiro è piccola da un buono zoom e allo stesso tempo Ombobbiamo alla perfezione i nemici Calibrazione 0-1.65 velocità modalità mirino Quindi come abbiamo detto per lo sniper support sta utilizzando l'H-Pino Come ben sapete dall'inizio di Modern Warfare 2019 L'H-Pino è in pratica una versione più veloce fatta a mitraglietta del fucile d'assalto AK Quindi unendo la velocità della mitraglietta più la potenza di una R ecco qui che abbiamo un'arma devastante Volata X10 Portal 290 con stabilizzazione del rinculo in più 0.31 Canna short tech 190 mm con stabilità del rinculo in 0.19 e 0.15 per la portata danni Laser OLEP con 0.19 stabilità puntamento in marcia e 13.16 stabilità puntamento da fermi Caricatore da 45 colpi e per stabilizzarla impugnatura Demo X2 con stabilità del rinculo in 0.45 Ragazzi vi porto una bella partita in cui ho fatto belle kill sia con l'H-Pino che con il cecchino Purtroppo sono morto in endgame mi sono ritrovato fra tre nemici Ragazzi mi raccomando se non l'avete ancora fatto abbonatevi al canale e attivate le notifiche per non perdere mai i miei video Noi ci ci vediamo domani nel prossimo video smadonnante Ciao bello Ciao bello Nemico in arrivo nell'area Nemico avvistato Gatti in movimento Uno ucciso Nemico qui Vado qui Buenas noches Come cazzo Non mi ha fatto la massima allerta Però la massima allerta Perché non ha funzionato Come ci stava rimanendo secco Voglio Salvi attivi Prezzi delle stazioni di acquisto ridotti Ne restano solo 25 Sta arrivando un nemico Attenzione Attenzione Occhio alle spalle Finestra di ritorno in chiusura Nemico in arrivo Nemico in arrivo Nell'area Combat Tre volte Dai V-1 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 V-2 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 Attenzione, UAV in uscita dall'area operativa Sei tra i primi dieci, bene Gatti in avvicinamento Oh e fatemi un po' i cazzi vostri 8000 persone Siamo abbattuti bene, tornate alla base e fate rapporto